Con delibera del 12 dicembre la casa del volontariato istituita il 5 luglio e collocata in via aranci va in gestione al centro servizi il volontariato etneo. E' stato infatti presentato quest'oggi a Palazzo di Città il protocollo d'intesa, volto al coordinamento e allo sviluppo cittadino nel settore delle politiche socioassistenziali. Tuttavia esso avrà durata di un anno con possibilità di rinnovamento in base alla verifica della corretta osservanza dei punti sanciti, tra cui la creazione di percorsi di formazione e la promozione del volontariato giovanile. Come CSWE per noi questo è un momento importante perché con la casa del volontariato alle associazioni di volontariato accesi si raggiunge per noi un bel traguardo. Infatti è segno appunto di una maturità dell'associazionismo che si è messo in rete, che ha dialogato tra loro e con le istituzioni. Quindi un grazie al comune per questa sensibilità. Il ruolo del centro sarà quello un po' sempre di coordinamento delle associazioni affinché poi sognano loro stesse, come è giusto che sia, le padroni di casa e quindi animare questa casa, viverla, gestirla, fare incontri, fare tutto ciò che serve alle associazioni per svolgere al meglio le loro attività. Sarete punto di approvo per i progetti SVE? Speriamo che non solo per i progetti SVE ma per tutta la progettualità messa a favore delle associazioni, parliamo di progetti europei, parliamo di progetti di Fondazione Sud, insomma tutta quella realtà che riguarda l'associazionismo che speriamo ad Acireale possa avere numerose risorse.